Vai con la cicletta di Alessia Fedele per le notizie Aspettavo che tu cantassi Ah si è vero di solito parto con Stavo guardando Questa cantatina quindi Eh che ha detto sempre Faremo la prossima settimana quindi me la devi Dacci la notizia Dacci facci sapere Perché sai una donna che è in stato interessante Magari vuole un po' di privacy Lei no No assolutamente Perché giustamente è talmente incredibile Questo evento che è successo Lo possiamo anche capire in un certo senso Questa felicità per cui praticamente Ha iniziato a fare la Giro Mondo È andata in Spagna dove lei è molto Conosciuta perché aveva A suo tempo nel 2006 Vinto Supervivientes Ovvero la versione spagnola Del reality Viene l'edizione inglese che è Survivor Ma qui si chiama lì Sono dei famosi Ah ah Che qui che quest'anno Subirà uno stop E eh La Carmen nazionale dice Eh mi hanno chiamato Anche dalle tv brasiliane Ma un viaggio figli Con il pancione Non ce l'avrei fatta Eh La Spagna invece è vicina Così ha accettato L'invito Di Salvame Deluxe Che è un programma Che va in onda Su Telecinco Come si dice da quelle parti E vai E qui insomma dice La notizia fondamentale Non è questa Che lei fa la Giro Mondo Ma che potrebbe aspettare Una bambina E secondo te Come l'ha capito Ah boh In teoria Da un'ecografia Eh Ma il bambino Dice tende a nascondersi Le fa gli scherzi Quando fa l'ecografia Ah ecco E quindi dice Che questo è un segno Che aspetta una femmina E a lì E andiamo Ovviamente Per farti capire La segnibilità Quando io ero Ancora in grembo La pancia di mia mamma Era punta Quindi teoricamente Era un maschio E a lì E mi sembra Che non sia Non abbiamo Scientificità del caso E quindi rimarremo Col dubbio Sicuramente Un dubbio Che verrà sciolto Nella prossima intervista Sicuramente Tra uno o due Che la farà in Italia In Spagna Perché sicuramente Ci vogliamo tenere Un po' di informazioni Per noi Eh no Per carità Non esiste Invece Da donna Se l'interessante A un'altra Parliamo di Belen Perché ha salutato Colorado La prossima Sarà l'ultima puntata Dove Belen Sarà presente Col suo pancino E perché Perché si vuole dedicare Alla maternità A tempo pieno Hai capito E quindi Lei che ha sempre Dato adito Con il suo corpo Anche Al gossip E dice Vabbè adesso Mi metto a casa Anche secondo me La vedrò girare Sui per Milano Con Stefano Mentre fanno gli acquisti Per Santiago Ah perché la vedi La vedi Quando gira per Milano Non ancora Non ancora Magari Se hai visto Adesso che avrà anche Lei più tempo libero Potrei Chissà incontrarla Forse devo andare Verso via Corsocomo Queste zone Un pochino più Più schicks Più schicks Esatto Allora questa Dove ancora fare L'ultima puntata E poi molla Così funziona Eh sì Così è stato Dichiarato Insomma Bene Mi raccomando lunedì Andiamo tutti A salutarla A colorado Ciao ciao Belen Ciao ciao E invece Sempre a Milano Cosa è successo Una lite Furibonda A quanto sembra Non si capisce Proprio molto bene Ma questo è il gossip Non far mai capire Veramente bene Una lite Tra Lelemore E Francesca Cipriani Due erano a cena Insieme Francesca Cipriani E quella della pupa E il secchione Esatto Quella con le titte Belle pompose A due otto A due otto Esatto E con lei Che aveva anche Dichiarato un po' di tempo fa Che avevano rifatto male Il sedere Ahia Quindi Cioè È un po' un problema Effettivamente E son problemi E son problemi Le vorrei dire E quindi Le devono La corcata Le botte L'ha presa a schiaffi L'ha presa a schiaffi Quindi Lei è dovuta andare In ospedale Addirittura Un codice giallo Sì Perché insomma Poche informazioni Per due schiaffi Il codice giallo Dice L'avvocato Della ragazza Ha detto che L'ex Tupa Comunque Era piena di etimo Si C'era il braccio Sinistro Insomma Fazione al volto Insomma Non si sa Addirittura Ha perso La sensibilità Tattile Non si sa Se tente Il motivo Di tutta questa violenza Che sembrerebbe Esplosa Insomma In questo Ristorante Ancora Non è stata Sposta Denuncia Però Insomma Diciamo Che Lo scenario È molto poco Simpatico Però Questo è quello Che succede A quanto sembra Nelle nostre milanese In locali Che io non frequento Mi trovo sempre Al posto sbagliato Nel momento sbagliato Guarda Una cosa Incredibile Incredibile Era una grande notizia Una grande notizia Dopo Lele Mora Giustizia della notte Per una Belen Che va via Della televisione Arriva Roberto Chi è Roberto Fa di cognome Parodi Chi è Roberto Parodi È il fratello Delle famose Cristine No 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 Dai Non è vero Che cosa fa Allora Lui debutta Su Italia 2 Il 4 dicembre Alle 23.20 Un'intervista Rilasciata A TV Sede Che canzoni E lui Farà un programma Di moto Scusa Di moto Che si chiama Rider's Cafe E ti bastano due ruote E in pratica Dice Che è molto felice Di essere arrivato A media Senza raccomandazioni Quando le sorelle E cognati Erano già andate via E questo è il coronamento Diciamo Di un percorso Fatto tutto Con le sue forze Lui è stato chiamato Da un dirigente Che non sapeva Essere il suo fan E quindi Da qui Iniziere a questa Nuova avventura Per dei parodi Che se ne vanno via Arriveranno degli altri Insomma Quindi per non rimanere Mai orfani E vai Allora ci abbiamo Il buon parodi Pure piazzato A Italia 2 Che sarebbe Italia 2 Una rete Italia 2 È una Italia Dopo Italia 1 C'è Italia 2 Una rete abbastanza giovane È una rete media sette Da staglio molto giovane E dove ci sono Anche tantissimi Cazzoli animati Di quando eravamo bambini Quindi due giorni fa Allora E quindi Esatto Riders Cafè E ci bastano due ruote Iniziere a Italia 2 Non poteva che essere Questo titolo Poi Poi Per te che sei un fan Di Melissa Satt Devi sapere Che lei è il tuo Kevin Io sono un fan Di Boateng Che da quando Ha incrociato Melissa Satt Ha finito di fare Il calciatore Ma queste sono Qui squilie Certo Hanno festeggiato Il primo anno D'amore E secondo te Dopo l'anello Che cosa Poteva arrivare Ah lo so Il Rolex Torino a 30.000 Ho visto Bravissimo E per lei Che è il secondo Stavo dicendo Che la fidanzata Tu è proprio buona È sto problema Sono preoccupato Che sta anche A petta Ma non da letta Hai capito Melissa Satt È il secondo È il secondo Rolex Spero sia l'ultimo Perché se no Vuol dire Che avrà un altro Sidenzato E sul retro Lui ha fatto incidere Le loro iniziali Per questo amore Così grande Che dovrebbe Due cuori Una capanna Insomma 30.000 orologi Due cuori e un orologio E secondo me È anche un bel appartamento In centro Insomma Tra un po' Ci sarà anche Questo matrimonio Vediamo Ci sarà Una devastazione Di copertura Mediatica Perché è un evento Più del fatto Che lei per una settimana Ha lavorato in teatro Comunque Perché non era tanto Quello l'evento Faceva la maschera Accompagnava i vostri No era sul palco A quanto sembra Se l'ha sbagliata La statuina E insomma Dice che ha fatto Tantie prove Comunque Sono molto contenta Ha ricevuto anche Delle buone recensioni E quindi Una settimana Una delle settimane Più intense La vita di Melissa Ma non glielo diciamo Non glielo diciamo Poi Chiudiamo Brava I reali inglesi La pagina dei reali Perché regalano sempre Qualcosa di carino Di simpatico Pista Middleton Che non è reale Ma diciamo È quasi più nota di Kate Non per le gesta Ha scritto un libro Su come si celebrano Le feste in famiglia Ha pubblicato Sia in Inghilterra Che in America Un grandissimo Battagio pubblicitario Ha ricevuto in anticipo Un assegno Di circa 500 mila euro Dalla Penguin A casa editrice Ma il libro Sta andando malissimo Maia Davvero Esatto Non solo Harry L'ha derisa A quanto sembra Tra i comminitori Leggiano ad alta voce Il libro Camilla Ne ha comprato Un po' di copie E la moglie di Carlo E lo ha Divulgato tra gli amici Sendo comprato L'è fantastico E bellissimo Ma insomma Praticamente È avvenuto Soltanto 2000 copie La prima settimana In Inghilterra Dove Comunque Stanno malissimo Su Amazon È Ispiegabilmente Tra i best seller L'undicesimo posto Negli Stati Uniti Dove comunque C'è molta curiosità Sulla Super rep Pippa Middleton È soltanto Il numero 303 Della classifica Quindi Un flop Un flop Esatto E quindi Niente Pippa si aggira Per le storie di Londra Sconsolata 303 È il numero 303 Come le 3 di mattina Sembra una stanza Allora ripetiamo Oggi è 19.45 Per chi scaccia i soldini Su Sky Vero Insomma Esatto E c'ha l'abbonamento Invece non c'è l'abbonamento Domenica Alle 13 30 Su cielo Quindi in chiaro Su Sky cielo Che la Sky Che si può vedere in chiaro Su digitale terrestre Quella che Simona Ventura Ieri ha pubblicitato Con un cartellone Durante X-Factor Che si era portato a presa Ho trovato una scelta Ma che si fa così Guardate con il cartellone E sei Simona Ventura Diceva adesso Ma è stato un po' massacrato Quel programma di Simona Ventura Dalla critica Invece Celebri di Nao Va bene Vi ascolti Buoni Va bene Senti molto contenti Siamo alla terza puntata Un bello sport produttivo Però siamo contenti E te lavori fino ai 3 di 8 E bene così Bravo Alessia Fedele A tutti con Celebri di Nao Buona giornata Buona giornata a tutti E buon fine settimana Grazie Un saluto a Alessia Fedele E alla sua pagina Del Gossip Che sempre vi Rallegra E ci Rattrista Perché evidentemente Se siamo ancora dietro a questo